Buonanotte. Ritorniamo qui a Roma, Sala Umberto, una bravissima, come sempre, Ducrezia Lanta della Rovere, Come tu mi vuoi. Vediamo. Il titolo dello spettacolo è Come tu mi vuoi di Pirandello. Elma comincia in questo cabaret degli anni venti, in questo localaccio di Berlino, rovinata dalla guerra, ed è una donna disperata che poi subirà delle trasformazioni, si trasformerà in un altro personaggio che poi diventerà Cia, che sarà una sposa attesa da una famiglia. Interpreto Bruno Pieri, marito di Lucia, Cia, soprannominata Cia, questa donna che è scomparsa da dieci anni durante la guerra. Io sono a Berlino, sono a Berlino per fare una mostra fotografica, perché Boffi è un fotografo e sta facendo questa mostra a Berlino, dove in questo cabaret trova questa Elma, che somiglia incredibilmente alla signora Lucia Pieri, moglie di Bruno. Oh cielo! Oh cielo, 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 mio marito! Tu il marito? E' il mio marito? Sei signora, Bruno è qua. È un personaggio che sta in continua ricerca, in continua evoluzione, in continua levarsi le maschere. Non conosco più nulla, no, 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 non conosco più nulla, non mi conosco. Respiro, respiro, non respiro, non lo so. Mi batte il cuore, non lo so, io non so più di dire. Sono il personaggio, beh, il personaggio dell'amante, Carlo Salter, che ha una relazione con l'ignota nel periodo di Berlino, dopodiché l'ignota se ne va. Mi conosci forse più di quanto mi conosca, Lucia! Sì, guardate io, io ti conosco più di quanto tu conosca te stessa, Lucia, sì! E lei nella prima parte fa mia figlia. Certo, e la verità è che anche io ho una relazione con l'ignota, ma anche con mio padre. Questi tre hanno un rapporto un po' perverso, abbastanza incestuoso, direi. Oh, ma appena se mi portasse almeno qualcosa da mangiare. Ma certo, subito che vorresti! La qualità positiva del mio personaggio è questo desiderio di... Secondo me, poi dipende da uno come vuole affrontare la vita, di questo desiderio di voler ricercare sempre la verità, anche se poi Pirandello ci dice che la verità non esiste. Per me, recitare a teatro è una grande sfida, è una grande passione, è un modo di mettermi in gioco, è un modo di conoscere degli autori, dei personaggi. È una grandissima energia anche che possiedi e che hai voglia di regalarti e di regalare. Insomma, è il mio lavoro che mi appassiona, è il mio fidanzato. Sì, mi è piaciuto! Devo dire che mi è piaciuto, ho trovato molto simpatica l'attrice, e anche originale la trasposizione da Pirandello alla versione che ho appena visto. Veramente un bellissimo spettacolo. Lo consiglio perché è una scoperta, è una rivelazione la recitazione.